Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Incentivi diventano una realtà anche in Italia le comunità energetiche, famiglie, imprese, enti pubblici possono associarsi per produrre e consumare energia. Andrea Rossini. Costruire un impianto di energia rinnovabile per usufruirne collettivamente risparmiando sulla bolletta e riducendo le emissioni inquinanti. Fino a poco tempo fa in Italia era vietato, ora invece cittadini e famiglie sono incentivati ad associarsi e dare vita a comunità di autoconsumo. L'esempio più classico è proprio il condominio che fino a febbraio nessuno costruiva l'impianto fotovoltaico perché era vietato dare l'energia ai singoli appartamenti, i singoli appartamenti non potevano condivirsi l'energia, adesso invece possono farlo con la nuova norma. La costruzione dell'impianto fotovoltaico sul tetto rientra nel bonus 110%, ma nelle comunità energetiche possono entrare anche imprese e enti pubblici. Chi si associa per produrre e consumare energia in prossimità di un impianto è incentivato perché evita le perdite che avvengono nella rete. Nel Triveneto c'è chi si sta già muovendo. Col Diretti in Veneto ha già una best practice perché si è fatta una propria comunità dell'energia. In Friuli c'è un consorzio di 18 comuni che sta già partendo per realizzarla. Ma come verrà gestita una comunità energetica? Tutte le scelte strategiche sono e saranno sempre in mano al cittadino o ente pubblico perché la comunità non è a scopo di lucro ma di risparmio. La strada aperta con il decreto incentivi è stata intrapresa da tempo da altri paesi europei. Germania e paesi scandinavi hanno una tradizione molto più lunga e anzi i cittadini oltre a fare la produzione detengono anche la proprietà della rete di distribuzione. Questo potrebbe essere un passaggio ulteriore futuro.